La caduta del sindaco di Lacquameno, Giacomo Pascale, si stava andando avanti da due anni e mezzo in uno con il collega di Casamicciola e con l'altro di Forio per uscire dalla fase del terremoto. Arnaldo Ferrandino, cosa può significare in questo momento un commissario prefettizio in corso d'opera al posto di un sindaco che bene o male ha seguito dall'inizio le operazioni? Io non ho condiviso l'operato di Pascale per quanto riguarda il terremoto, ve l'ho detto in tutte le salse. Non credo che il commissario prefettizio possa portare un contributo a questa situazione perché ritengo che le amministrazioni siano più partecipi rispetto a un commissario prefettizio. Sotto il profilo umano però sono vicino a Giacomo Pascale perché io che ho provato più volte questa esperienza so che è abbastanza dolorosa, però poi non entro nelle dinamiche delle politiche di Lacquameno che hanno determinato queste scelte. Ecco appunto, il fatto di determinare una caduta di un sindaco soprattutto in questa situazione, tu dici non vuoi commentare, però voglio dire se fosse capitato a Casamicciola, se ti avessero chiesto di mandare a casa Castagna in questo momento? Guarda, per come io concepisco la politica di Castagna nei confronti del terremoto, ribadisco nei confronti del terremoto, non avrei nessuna esitazione a mettere la firma. Io sono uno che ha sempre detto che mai avrebbe messo la firma per mandare un sindaco a casa se non sfiduciandolo in Consiglio Comunale. Mi rendo conto però che noi non abbiamo la maturità per sfiduciare un sindaco in Consiglio Comunale e in questo francente, visto che io ho criticato in tutte le salse il suo comportamento nei confronti del terremoto, non avrei nessuna difficoltà a mettere la firma per mandarla a casa. Grazie a tutti.